Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Andrade della registra Cancelletto 1, farò la recensione di un film del 1983, Sleepaway Camp. Angela Becker è una ragazzina di 13 anni, in vacanza in un camping estivo, col cuginetto. Un susseguirsi di strani e crudeli delitti ha per oggetto gli avvenitori del campeggio, i sospetti si indirizzano subito proprio su Angela Becker, la ragazzina nasconde uno scioccante segreto, il mio voto a questo film è 10, ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto, mi sono piaciute molto le scene del film, l'interpretazione e la sceneggiatura, è di genere dell'orrore, la durata è 1 ora e 28 minuti, il regista è Robert Hiltzik, la regia è buona, bravo regista, la prima data di uscita negli Stati Uniti il 18 novembre 1983, il budget 350 mila dollari, il botteghino 11 milioni di dollari, l'attrice è Felisa Rose, brava attrice, nel film anche Jonathan Tiersten, Paul D'Angelo, Karen Fields, Catherine Camille, Christopher Collet, Mike Kellyn, Thomas A. Van Dill, Desiree Gould, Robert Earl Jones, John E. Dunn, Loris Salayan, Willie Cuskin, Owen Huggs, Vincent Pastore, Susan Glades, Michael C. Mahon, Frank Trent, Saladino, James Paradise, Archie Liberas, Alison Mord, Dan Torsey, Adam Weil, Maximo Gianfranco Sorrentino, Rick Edric, Coletli, Corcoran, Alan Breton, Saluto, Samo Brina, Cita, Ilaria, Aliciotola, Markolf, Magellan, Ale, Amico di Ale Gianluca, Mariuccia, Michi Robby, Tony, Cante Domenico, Leo Tassoni, Peter Thiem, Festival, Michele Trigiani, Favij, Picchiatore, Bolluni, Ivan Drago, Pia e Telefine 122, The Rock, Corto, Mr. Bike TV, il canale PNC, Rentboy, Henry, Ragazza di Henry, Giulio Alessio Uga, Isuralli, Il Trio Medusa, Daniele, Danielios, Kevin, Gigi, Nico Rota, Fabio, Flavio, I Dancing Queens, Marco Fo, guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, a rivedere il nuovo video, spero che questo video vi sia piaciuto.